buongiorno buongiorno oggi è lunedì 26 novembre la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione ancora una giornata in segna della variabilità sia sulla provincia di bolzano sia sulla vicina provincia di trento temperature minime massime in linea con gli ultimi giorni in regia abbiamo massimo moro in apertura alcune notizie di cronaca nera delle ultime ore incidente stradale ieri intorno alle 21 e 30 al bivio per la mendola poca distanza da piano un ferito lieve a bordo di questa automobile sul posto vedete vigili del fuoco e soccorritori del 112 per portare aiuto e per fortuna nessun ferito a bordo di quest'altra automobile quasi completamente distrutta da un incendio si tratta di un auto mezzo ibrido l'allarme alle 22 e 30 all'uscita autostradale di egna andiamo a vedere a vedere con l'aiuto di massimo moro qual è la situazione questa mattina intorno alle 6 30 sulla conca che ospita il centro abitato di dobiaco mare di nuvole nel fondo valle più che evidente all'orizzonte le nuvole che ci accompagneranno anche per questo lunedì di fine mese andiamo a vedere allora le previsioni avevamo 10 gradi nel capoluogo alto tesino 9 gradi a merano 7 a silandro 7 a bressanone 5 gradi a brunico e vipiteno nelle ore più calde identica situazione in provincia di trento forse qualche nuvole in più 10 gradi anche a trento città 11 gradi a riva del garda 5 a male 6 a cavalese 5 a moena 6 gradi a fiera di primiero andiamo sulle sui quotidiani che troviamo oggi in edicola la stampa altotesina travolto dalla valanga l'allarme ieri in val d'ultimo uno sci alpinista è stato salvato dopo 5 minuti sotto la neve da un'altra comitiva di escursionisti in mille di corsa per dire no alla violenza sulle donne la giornata ieri sui prati del talvera a bolzano la cronaca che arriva da trento con il trentino santa maria sappiamo le polemiche per la presenza dei vigilanti sappello del vescovo una soluzione condivisa ma don farina dice le guardie è un vero e proprio orrore è partito dal trentino in per la precisione dalla val di fiemme l'albero di natale che verrà regalato a genova ferita verrà addobbato collocato nella zona del quartiere di ponte morandi dopo il maltempo sarebbe stato comunque abbattuto il quotidiano ladige truffa da due milioni di euro centro medico estetico fantasma beffata una dottoressa la sentenza della corte di cassazione che conferma il maxi risarcimento anche a trento grande successo per la corsa per dire no alla violenza sulle donne oltre 1300 i partecipanti torniamo in provincia di bolzano con la cronaca in lingua tedesca a cura del dolomiten giornate o addirittura ore decisive per la stella alpina nella decisione del partner della giunta provinciale e poi brutale aggressione con un coltello nel cuore delle notte ad insbruck una vittima un giovane di soli 21 anni per le notizie a carattere nazionale corriere della sera sulla manovra salvini e di maio aprono all'unione europea non ci attacchiamo ai decimali riguardo il deficit e poi la brexit l'europa ha detto sì adesso per teresa mei è la sfida con il parlamento l'economia il brand italia non va sprecato parla francesco mutti numero uno dell'industria di marca il sole 24 ore il risparmio senza fiducia si rifugia nei conti bancari la montare sale a del sale del 75 5 per cento negli ultimi dieci anni è tutto in chiusura vi ricordo gli appuntamenti da non perdere la foresta natalizia nel giardino della forst a lagundo rimane aperta fino al 6 di gennaio o che su ghiaccio il 30 di novembre l'appuntamento al palaonda tra il bolzano e gli avversari ungheresi è veramente tutto vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 grazie a tutti 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 Grazie a tutti.